Uè non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia che aggiornamento quello di poche ore fa patch 10.10 ovviamente scaricata da tutti voi che ha visto l'introduzione di un sacco di novità per quanto riguarda la storyline di Fortnite, il nuovo corso commercio che in realtà è quello vecchio abbiamo visto le schermate di caricamento, un sacco di skin nuove ma anche tante piccolezze che forse vi siete un po' persi e che nel video di oggi voglio invece farvi vedere parleremo anche della skin segreta, si ragazzi perché non è lo starter pack quello che sarà disponibile nel pomeriggio di oggi visto che ieri era già possibile acquistarlo se per caso foste in Australia parleremo anche del concerto confermato dei major laser ve ne parlai due tre settimane fa finalmente abbiamo anche uno spezzone di video che ci conferma che ci sarà un nuovo concerto nella season numero 10 di Fortnite e poi ragazzi le novità non finiscono nuovo Rift Beacon trovato nella mappa quindi non ci danno assolutamente tregua dopo tante season di poca roba durante la stagione questa, continuo a dirvelo, è veramente super super dinamica prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XUDERONE per scioppazzarmi di prepotenza per scioppazzarmi, per scioppazzare di prepotenza nello shop mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la aspettate la domandina ve la devo fare ragazzi, domandina che dai potreste già aver capito voglio sapere la vostra opinione cosa ne pensi di Corso Commercio? abbiamo visto il trailer anche su Instagram, ve l'ho pubblicato praticamente appena è uscito, torna Corso Commercio? sì, ma con una particolarità anche qui, zona di gameplay limitato appunto solo a questa città ci sono zombie, su zombie, su zombie io vi dico la mia ragazzi per me è un pollice in su sì, vi spiego anche il perché non dovete focalizzarvi sul fatto che gli zombie rompono le palle per un semplicissimo motivo i zombie ti rompono le palle non atteri a Corso Commercio per dirti atteri da un'altra parte io vedo Corso Commercio come una location A dove poter fare un botto di kill senza essere così tanto sgamati B dove poter fare un fottio di loot e C dove poter farmare un sacco senza troppi problemi ovvio ci sono gli zombie ma sono limitati per me è un pollice in su ditemi quello che ne pensate invece voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e vando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere finalmente l'immagine ufficiale del Red Strike Pack non è altro che lo starter pack di questa Season X una skin molto molto interessante che va a riprendere sembra un samurai dei giorni nostri con tanto di 600 V-Bucks acquistabile probabilmente dal pomeriggio di oggi per noi in Europa al prezzo di 4,99 abbiamo un'immagine invece per quanto riguarda lo store australiano dove invece a loro costa 6 dollari e 65 ma abbiamo anche ragazzi un gameplay uno spezzone direttamente della skin in game ed eccola qua infatti a vederla così non è brutta ci può stare c'è anche il pick no c'è il backpack e la skin il piccone invece verrà preso ragazzi a parte questo ve lo faccio vedere fra poco quello che è apparso qua quindi starter pack che secondo me vale la pena di prendere come tutti gli starter pack perché per 5 euro avere 600 V-Bucks è una cosa sicuramente positiva e andiamo avanti con il prossimo argomento che è proprio il Rift Beacon quello nuovo ragazzi è appena sparito in poche parole quello di Corso Commercio che appunto ha riportato Corso Commercio quello che era grandi magazzini questo invece ragazzi si trova nei magazzini nel tris di magazzini quelli oggi se volessimo intenderci un po' meglio cosa sta a significare beh ragazzi che secondo me rivedremo sprofondo stant'io è molto plausibile rivedere il cratere un'altra delle parti sicuramente fondamentali della nostra storia di Fortnite verrà attivato probabilmente nelle prossime ore e c'è anche la possibilità che cambi magari prima della patch che arriverà fra due settimane quindi molto probabilmente nuova location verrà presentata o magari con l'aggiornamento di martedì prossimo della patch 10.10 però abbiamo anche una riga di codice inserita davvero molto interessante che fa riferimento al visitatore tutti stiamo aspettando di capire quale sarà il ruolo del visitor in questa season 10 arrivato con il meteorite nella capsula ma abbandonata la capsula quindi abbiamo un visitatore che gira la mappa Dusty Depot Visitor's Warehouse in poche parole i magazzini del visitatore dei magazzini in poche parole di Dusty Depot staremo a vedere ragazzi quale sarà appunto il ruolo del visitatore per il momento continuano ad esserci dei chiari riferimenti a questa skin e andiamo avanti con il prossimo argomento che si tratta invece molto velocemente di una modifica incredibile che verrà applicata nelle prossime giornate della mappa stiamo parlando del campo da calcio a 5 una location storica che invece come state vedendo proprio qua ve lo faccio vedere più zoomato sparirà del tutto non sappiamo le motivazioni sinceramente ma questi sono file inseriti nei file di gioco e quindi addio al campo di calcio a 5 che purtroppo ci lascia per il niente e proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento andiamo un attimo a vedere le schermate di caricamento nuove schermate di caricamento molto interessanti perché è molto in stile steampunk due skin che già conosciamo con abiti che invece non abbiamo visto ne abbiamo anche un'altra e proprio qua in alto eccola qua ragazzi la skin segreta quella che vi avevo anticipato all'inizio del video una skin che farà parte della storyline della season 10 che avrà un ruolo fondamentale perché proprio questo oggetto che sta tenendo in mano è un nuovo consumabile è un nuovo oggetto che non ho tempo di parlarvene oggi ma lo vedremo meglio domani una specie di rift lanciabile voglio invece farvi vedere la skin in game ragazzi eccola qua come vedete non niente di eccezionale particolare si sappiamo che comunque ci verrà regalata quindi non vedo perché buttarcela via non ha la testa però vabbè a parte il fatto che non abbia la testa ed è formato da antimateria direi che più o meno ci sta come cosa ragazzi una skin gratuita che vedremo quale ruolo ricoprirà nel nostra storyline di questa season 10 chiudiamo velocemente ma lo approfondiremo ragazzi nei video prossimi con alcune stringhe di codice relative al concerto dei laser beam un gruppo che ha fatto miliardi di visite sul suo canale youtube abbiamo un sacco di cose che andranno a richiamare perché ci sarà proprio un bundle che si chiamerà laser laser blast laser flex laser wings laser remix laser remix ancora insomma un sacco di cose ma soprattutto major laser bundle quindi viene ufficializzato nei file di gioco anche se in realtà non ancora pubblica e chiudiamo allora facendovi vedere ragazzi poi la rivedremo nei prossimi video la skin dei major laser con tanto di piccone piccone veramente meraviglioso ragazzi un'ascia b penne dorata cosa cavolo volete di più se avete il magnus io gli metterei l'ascia b penne dorata perché è veramente tanta tanta roba insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video le novità non finiscono qua le vedremo nel corso dei prossimi giorni un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao un'iscrivetevi al canale